Sabato 3 settembre andrà in scena il tuo, il vostro spettacolo e vorremmo sapere il titolo e se ci dai anche qualche anticipazione però. Naturalmente, allora in doppia veste questa sera perché sono anche presidente del Teatro Accademia di Pesaro che chiuderà questa rassegna il 3 settembre con questo spettacolo che si intitola Cum Jira Afni, come andrà a finire e naturalmente questa è una parodia del matrimonio in tutte le sue fasi, sono quattro quadri e questi quattro quadri rappresenteranno dalla proposta di matrimonio al vero e proprio matrimonio giornata infernale dove se ne vedranno di ogni colore, la vita matrimoniale e poi non vi dico la fine ma insomma abbastanza vicina, molto esilerante con tante gag, divertenti insomma. Ricordiamo allora l'appuntamento? 3 settembre, Arena BCC, naturalmente Tre Pontifano, Cum Jira Afni, Teatro Accademia di Pesaro.